È un vero piacere e d'onore per noi avere Vittorio Tessera, il padron di casa Lambretta che procederà con il rimontaggio di un gioiello. Questa qui è una Lambretta 125D da 53, è proprio un cavallo di battaglia degli innocenti, è stata la Lambretta tra i più diffuse nel mondo e quindi è un modello che tutti ricordano nella storia motoristica italiana. Adesso iniziamo a montarla, cominciamo dal motore che viene fissato sul telaio e così possiamo mettere la rotta posteriore e la moto rimane in piedi da sola. Mettere il motore è chiaramente molto facile. Adesso montiamo la ranel di sicurezza, mi serve per non far esvitare il dado. Adesso noi dobbiamo caricare la bari torsione, mettiamo dentro, se questa non è precaricata il molleggio non funziona. Mettere il motore è chiaramente molto facile.